Premesso che della testata di Eto' parleremo assieme a Stefano Brandini nell'altro servizio, c'è una frase molto offensiva, vaiassa, detta dalla dimissionaria Carfagna alla passionaria Mussolini. Ora la parola vaiassa nel suo significato camorristico o malavitoso della Napoli, della campagna della fine dell'Ottocento vuole dire alla lettera prostituta, quindi è un'offesa molto pesante quella della Carfagna alla Mussolini, anche in considerazione del fatto che se si analizza nelle accezioni più diverse, se vuole dire serva sbraitante oppure donna di strada incline alle urla, becera, quello che si potrebbe dire becera, comunque diciamo che becera è la traduzione più raffinata, aspettando gli sviluppi di queste due donne che tra l'altro occupano bene o male la stessa alla politica, ne parleremo magari poi con la Angiolini di queste offese, ma era importante che ve ne parlassi perché è stato un weekend pieno di colpi di scena, per esempio il Papa ci ha parlato apertamente in questo libro del preservativo, poi tra l'altro se si guardano le traduzioni tradotto in italiano lui parla di una prostituta che lo possa usare per non rimanere in stato interessante, mentre nella traduzione tedesca questo condom viene attribuito a un uso maschile, perché la traduzione dice prostituto, allora siccome c'è questo giallo, pensate sono i colori anche del Vaticano, c'è questo giallo, io direi di scrivere un altro libro che spieghi magari un film interpretato da Robert Redford, già lo vedo, i tre giorni del condom, per spiegare appunto come mai… Ti è piaciuto l'occhini questa? Questa è intelligente, oltre che spirituosa. E per finire leggo in cronaca di Arezzo riguardo al pubblico impiego che sul sito del ministro Brunetta ci sono dati tra i più eclatanti in Italia, cioè l'assenteismo alla USL e provincia di Arezzo è crullato da record grazie all'intervento di Brunetta, è per questo che molti amici che lavorano nelle USL non hanno trovato più funghi, chi ha fatto meno olive, chi quando c'era il vino non è andato a vendemmiare, chi al passo ha ammazzato meno fringuelli, insomma io capisco Brunetta che l'Italia vada meglio perché la USL lavora di più, ma noi non si è mangiato un fungo, non si è mangiato un tordo, non si è l'unico tordo che ho in studio dietro la telecamera e anche per la passera mi sono dovuto rivolgere a Larita che ha una famiglia di cacciatori, nel senso non fraintendere. Buona visione a tutti e buona settimana.